Si inizia la partita dell'Europeo 2008, Francia-Italia, qui l'Italia subito pericolosa al quarto minuto con Luca Toni che sferra il destro sul fondo, poteva essere migliore questa conclusione, intanto poi al settimo minuto vediamo il fallo su Frank Ribéry, Italia di nuovo pericolosa al decimo minuto con un colpo di testa che stava per sfingersi alle spalle del portiere. Intanto rivediamo il colpo di testa, forse un salvataggio o una parata non si sa, però comunque la palla non è entrata, qui la Francia si fa sotto con il sinistro di Benzema che termina sul fondo, qui invece abbiamo il fallo su Perrotta e viene ammunito Evra, qui intanto Pirlo lancia Luca Toni che stoppa il pallone e finisce giù. Calcio di rigore per l'Italia e viene espulso Abidal, intanto possiamo vedere il fallo su Toni che cade a terra e il rosso per Abidal che lascia il campo prima del dovuto. Ecco qua, mette giù Luca Toni e sul dischetto va Andrea Pirlo, uno dei rigoristi di Berlino, parte Pirlo che manda l'Italia in vantaggio di 1 e l'Italia in vantaggio per 1-0, gol su rigore di Andrea Pirlo. L'esultanza anche di Gigi Buffon nella propria porta, intanto rivediamo il calcio di rigore realizzato da Andrea Pirlo. Qui l'Italia si fa ancora pericolosa con il destro di De Rossi che finisce sul fondo però, non poco alto sopra la traversa. Qui l'Italia di nuovo pericolosa con Luca Toni che sfiora l'Euro goal, pallone che finisce sul fondo di pochissimo e si lamenta Toni. Attenzione Luca Toni ancora in aria e il pallone finisce ancora sul fondo però ci sta provando l'Italia a fare questo 2-0, pallone che finisce sempre sul fondo. Qua la Francia prova a mettersi in confronto con Henry che sfocia questo destro che finisce sul fondo. Qui intanto abbiamo la punizione, parte Fabio Grosso, il pallone finisce sul palo, poi un fallo forse, intanto rivediamo la punizione incredibile. Forse una deviazione del portiere però era un gol fantastico, peccato. Qui intanto la Francia prova ad andare avanti però c'è il fallo di Pirlo che viene pure ammonito, il secondo della gara ad essere ammonito qua ha il fallo su Benzema che cade. Qui intanto la Francia riprova un altro fallo, fallo su Henry da parte di Chiellini, si prende anche lui l'ammunizione, protesta Chiellini. Qua intanto l'errore dell'Italia ma finisce qui il primo tempo con Luca Toni che in questo primo tempo secondo me ha fatto abbastanza. Poi vediamo anche Pirlo, il calciatore decisivo per quel rigore. E intanto si rinizia con il secondo tempo con il primo pallone gestito dalla Francia. Qui al primo minuto del secondo tempo il fallo su Perrotta che cade a terra ha ammonito anche Govù. Qua la Francia si fa subito pericolosa con Benzema che sfiora un gol bellissimo, pallone che esce di poco alato. Intanto rivediamo l'azione della Francia, qui poteva essere davvero fantastico questo gol. Qui al sesto minuto Henry si gira ma Buffon con le sue mani prende il pallone. Henry salta l'uomo, ancora Henry prova il destro Buffon. Rivediamo il destro di Titian Henry che sarebbe forse andato sul palo. E intanto la Francia qui riprova di nuovo ma ha di nuovo un fallo. Di nuovo il fallo su... Qui intanto viene sostituito Andrea Pirlo. Punizione per l'Italia, batte De Rossi, pallone deviato che finisce in porta. L'Italia è avanti di due con il gol di De Rossi. Palla che è stata deviata da un uomo in barriera che si spinge in porta. Qua grandissimo schema su punizione dell'Italia ed è rete. Rivediamo il tiro, fantastico. L'Italia è in vantaggio di due che vista da qui questa punizione sembra pure un tiro ad effetto. Qui intanto viene sostituito per rotta. E anche una sostituzione della Francia entra Anelka. Attenzione subito Anelka. Prova a passare la palla dietro. Attenzione all'Italia, Tony. Attenzione, potrebbe esserci un'altra espulsione su Tony. No, solo ammunizione. Solo ammunizione però secondo me lì il rosso c'era. Qua invece Benzema prova di destro. La grandissima parata di Buffon che mette il pallone in angolo. Incredibile. Bravissimo qui Gigi Buffon su questo tiro a giro di Benzema. Incredibile. Bellissimo. Bellissima parata di Buffon. Su questo destro a giro di Benzema. Incredibile. Qua intanto esce Gattuso. Ed entra Aquilani. Qui al trentanoesimo. Il fallo su Zambrotta da parte di Henry. Cadono tutti e due. Terry viene pure ammunito. Qua l'Italia prova a fare il 3-0 che non riesce per la parata del partito. Poi attenzione abbiamo Tony che c'entra il palo. Il secondo della gara per l'Italia. Palo di Tony. Finisce qui. L'Italia batte 2-0 la Francia con il gol di De Rossi e di Andrea Pirlo. Qua l'Istari del apprendre in falqui e di Andrea Pirlo. Qua l'Istari ihm tiare avrei 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 avarrei avrei 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 di Arizona.